Il presidente della provincia regionale di Catania, Giuseppe Castiglione, ha inaugurato stamattina alle ceminiere la sesta edizione di Job 2010, manifestazione che ha l'obiettivo di favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro. Job 2010 è dedicato all'attività di orientamento nel settore dell'istruzione, nella formazione degli strumenti di politiche attive del lavoro ed è promosso dal 19 al 21 aprile dalle 9 alle 18 e 30 dalla provincia regionale di Catania, insieme all'Università degli Studi di Catania e all'Ufficio Provinciale del Lavoro e all'Ufficio Scolastico Provinciale. Tra gli eventi in programma la dodicesima rassegna del Teatro Francofono di Catania, un convegno su scuola, lavoro, impresa, una circolarità formativa e un workshop dedicato ad amministratori e dirigenti del settore, curato dall'assessorato provinciale alle politiche giovanili e alle politiche sociali. Il 21 aprile invece si terrà l'undicesima edizione del progetto 30 ore sul tema l'impresa dei tuoi sogni, curata dal gruppo Giovanni di Confindustria Catania ed il Festival Internazionale dei Sapori. Al prossimo episodio